Ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere un po' di Deplian cataloghi che ho raccolto a Corso Vittorio no, li ho raccolti a Corso Buenos Aires questi e così vi faccio vedere un po' quello che hanno i vari negozi iniziamo con Liu Jo, a me piace un sacco questa borsa rossa però costa più di 200 euro quindi penso che non la prenderò proprio per niente anche perché non me lo posso permettere, comunque andiamo avanti ripetere un po' di Daldonati e ripetere di acqua e ripetere un po' di Mope mi piacciono molto queste metà l'assee queste animalie non mi piacciono proprio più questa mi piace tanto questa poi ci sono queste con gli charm mi piacciono invece queste qua soprattutto questa questa qua invece no e neanche questa questa con la pelliccia di tre colori poi tra l'altro bello bello io però quasi quasi mi prenderò quella piccolina questa pure mi piace questa l'ho vista in negozio e vi ho fatto vedere la liujo adesso vi separo i video in modo che vi faccio vedere le cose perché sennò questi perché sennò un solo video sarebbe enorme e quindi diciamo calerebbe l'attenzione più che altro diciamo per voi perché tanto io questi ce li ho a casa me li posso tranquillamente guardare più che altro per voi per chi non li ha per chi magari vuole vuole sapere qualcosa vuole vuole guardare eccetera ciao a tutti spero che questo video vi sia stato utile vi saluto e ci vediamo ciao